Assurdo, beh, assurdo. C'è una sfiga in questo periodo che tu non puoi manco immaginare, perché? Ieri sono stato licenziato. È morto mio zio, mio zio è morto, giovanissimo. È scappato il mio gatto stamattina, non si trova più. La mia fidanzata si è messa con un altro, con il mio miglior amico. E poi c'è altro successo. Ah, ho fatto incerto con la macchina, per strada mi hanno scippato, vabbè, pure il Bari ha perso contro il Lecce. No, è una grossa sfiga. Assurdo, bro. Pensate che nel primo tempo vincevamo 1-0. Quella di questo di merda, non sono dappertutto.